Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti e benvenuti per questo appuntamento molto di retroscena con il Gabbiano diretto da Leonardo Lidi e il codiretto da questa compagnia straordinaria perché chi ha visto lo spettacolo sa l'apporto creativo di questi attori, quanto davvero ci sia di una grandissima autorialità nella loro azione scenica. Davvero poco, questa volta non è, non lo dico che poi dopo mi allargo, ma parlo pochissimo non solo perché siamo tanti ma perché vogliamo sentire tutti loro e poi c'è uno spazio per le domande quindi insomma stringo il più possibile e io vorrei cedere subito la parola a Leonardo Lidi che ci sta accompagnando da un po' di tempo in questo suo territorio per temi che lo sollecitano il suo percorso non è solo una galleria di regie brillanti ma è un vero e proprio processo scenico e poetico molto importante con alcuni temi su cui sta scavando da diverso tempo e che ritorna appunto anche in altra veste e dal punto di vista altro in questo gabbiano. Allora Leonardo volevo chiedere subito a te un po' quali sono stati gli elementi di necessità che hai trovato nel gabbiano per cominciare appunto a lavorarci? Buonasera, sono molto felice ovviamente di tornare alla base nel senso che Torino sono la vista residente qui con la scuola, siamo qui da poco, dal misanto, da pochissimo da signorina Giulia sono molto felice di poter rincontrare il pubblico con il gabbiano ma allora come dicevi sicuramente il desiderio è quello di stare insieme di stare insieme a una compagnia di attori come hai giustamente detto tu che codirigono lo spettacolo nel senso che in scena c'è uno scheletro che va abitato con libertà e quindi io sono molto felice di avere in qualche modo raggiunto questa tranquillità d'animo del regista per concedermi il lusso di lavorare con gli attori, con la loro fantasia e non fai due passi a destra e di la battuta. Sì, sicuramente il percorso è molto... ha delle tappe che si possono in qualche modo che possono dialogare tra di loro, anche se mi sembra che in questo caso sia un nuovo inizio per me, parlo per me, però mi piace pensare al mio percorso, quella è una buona conseguenza dei lavori, però sicuramente in questo caso la necessità che mi chiedevi è stata durante il lockdown di dire adesso come ripartiamo, da dove ripartiamo, su cosa ci interroghiamo e se col misantropo in qualche modo rispondevo a una necessità personale rispetto ad aver vissuto durante la pandemia l'altro come una minaccia, in questo caso mi sono soffermato su una necessità e un'esigenza professionale e quindi del lavoro e quindi chi meglio di mi sono detto che è arrivato il momento di tirare fuori dal cassetto il mio autore preferito, lo si può dire, ma di chi non lo è, forse non lo so, però mi faceva arrivare un'intervista con Ilaria Gugino di qualche anno fa, l'intervistatore mi diceva adesso è arrivato il momento di Chekhov, 5 anni fa e lei disse, no, è troppo giovane, adesso per Chekhov, aspettiamo un attimo e io gli ho detto, no, adesso lo facciamo e in effetti l'abbiamo iniziato. Chekhov, anche io lascio la parola agli attori velocemente, però la cosa che mi emoziona sono due, una è quella di che ci siamo presi il tempo, uso sempre il plurale perché questo è anche un discorso, sì con gli attori, ma anche produttivo, nel senso che è ovviamente un momento fortunato per me, come hai detto, per gli spettacoli sono andati bene, sono andate cose belle, anche col cinema, così, e allora nel momento della fortuna prendersi l'uso del tempo penso che sia una cosa intelligente, piuttosto che rimarcare quello che funziona, quello che ho già fatto, no? E quindi dire, ok, è andato tutto bene, sono stato fortunato, è stato rapido, è abbastanza indolore, adesso prendiamoci il tempo per fare le cose. e quindi è un progetto di tre anni, non è solo il Gabbiano, il Gabbiano è l'inizio di un percorso con un gruppo di attori, un gruppo di collaboratori, con delle produzioni, tra cui appunto il Teatro Stabile di Torino, il Teatro Stabile dell'Umbria e in questo caso che mi hanno concesso il tempo per affrontare Chekhov, anche se forse affrontare non è la parola adatta, perché è subito battaglia, per essere in viaggio con Chekhov, diciamo. E quindi cosa ci interessa di questo teatro? Questa è la domanda. perché rientrare in sala? È bellissimo, ieri ad esempio ci avete accolti molto numerosi, ovviamente un'emozione, immagino per gli attori, per me sicuramente lo è. Perché rientrare in sala? Come non dare per scontato il perché ci siamo andati fino a ieri e perché tornare a Chekhov? Cosa vogliamo? La risposta che Chekhov ci dà è per gli attori sicuramente, per le persone, per i sentimenti che attraversano le persone e quindi lo rende infinito senza tempo e il come è la domanda che ci vuole con il gabbiano e quindi l'inizio di una trilogia è importante iniziare dal come, ricominciare o cominciare. E quindi nel gabbiano, anche difficile dire di cosa va nel gabbiano, però nel gabbiano c'è sicuramente un grosso punto di domanda sulla forma, no? Abbiamo due persone che scrivono con forme differenti e questa forma si modifica nel tempo, come ci dirà Costia nell'ultimo atto. e quindi come avvicinarsi e stare insieme al pubblico, pubblico che ci può far paura, come ci dice Gregori all'inizio. E quindi il come, come ricominciare, come ci siamo interrogati, no? Se era giusto o se era sbagliato fare degli incontri su Zoom durante la pandemia, come ricominciare, da che testi ricominciare. Allora, diciamo, partiamo da quello che ci dice Chekhov, che è... cosa dice Christian alla fine? Non lo faccio dire. Liberamente, non è questione di forme. Il problema non sta nelle forme vecchie o nuove, ma è nella capacità di scrivere, indipendentemente da tutte le forme, nel sapere esprimere liberamente quello che ti esce dall'anima. E quindi ecco, questo viaggio nell'interrogarsi sul come, sulla forma, e mentre tu ti interroghi sul come, sulla forma, entra l'amore, entra la vita, entra i sentimenti che ci scompigliano i capelli, e parliamo della marmellata che non mangiamo mai, del miele, delle stupidaggini, delle cose che ci fanno battere il cuore. E quindi si torna, a mio avviso, a un senso pratico che mette la persona al centro di qualunque tipo di pensiero intellettuale. E mette l'amore, che è una cosa che cercavamo in qualche modo di mettere in campo anche con il misanto, e poi mette l'amore al centro di un processo creativo e intellettuale, questo penso che sia molto bello. E l'ha fatto Chekhov. Dico un'ultima cosa, di solito, chi ha visto i spettacoli lo sa, ci tengo a palesarmi, nel senso che, di punto di vista del regista che ha fatto questa cosa, questa scenografia, e qui mi sono proprio sentito nella tranquillità di non dover intervenire, nel senso di lasciare, di essere insieme agli attori. Ad esempio io non seguo mai le repiche, finora le ho viste tutte, tutte, non tutte. perché è bello, fa un viaggio insieme, insieme a Chekhov, e ogni giorno, questo invece è un discorso più personale, Chekhov mi insegna delle cose da regista, e questo è bellissimo, nel senso che mi dà delle nuove indicazioni, non in scrittura, ma in regia, attraverso la scrittura. E questo è la parte che è affascinante, la mente supera il tempo e dici, ah sì ecco perché faccio teatro per superare quel tempo lì. Questo. Il tempo sia anche uno dei macro temi del Gabbiano, ma nello spettacolo anche ritmo e anche danza, e anche uno stare scenico molto particolare, come quello di Massimiliano Speziali, ma ecco, partire da una, come dire, staccare una figura dal flusso è veramente difficile, perché chi ha visto lo spettacolo ha visto questa tessitura meravigliosa, con tanti livelli, quello testuale, quello sottotestuale, quello dell'intimità, dato del progetto sonoro, insomma veramente però dobbiamo farlo, perché, e quindi partirei magari da Francesca, isolando appunto un po' la sua figura, che è un po' un peccato la mia domanda. Non l'ho capita. Hai ragione, non l'hai capita perché l'ho lasciata così nel bargo. Non l'ho fatta, hai tutte le ragioni. Dicevo appunto, proviamo allora a raccontare, insomma, velocemente la figura di Arcadina, dal tuo punto di vista, quali chiavi d'accesso, che cosa ti ha sollecitato di più di questa figura? Beh, intanto comincerò a dire che è un ruolo magnifico, è un ruolo magnifico, divertente e non facile. Non facile perché questa Arcadina è attrice di professione, è un'attrice di successo, e di fatto sta costantemente in scena, è in una situazione di costante esibizione di sé e quindi continuamente cerca un pubblico che la ascolti. Nello stesso tempo però la forma di cui parlava Leonardo, le richieste rispetto alla forma di cui parlava Leonardo andavano in una direzione di sobrietà, se posso definirla così. ci chiedeva un'estrema naturalezza, dunque trovare una misura fra l'attrice che si esibisce costantemente e la naturalezza di questa attrice che ormai col tempo, appunto, con l'abitudine dell'esibizione continua è diventata naturale, poi però ci sono sempre io che comunque devo recitare. Insomma, c'erano diversi livelli sovrapposti che mi mettono costantemente di fronte ad una difficoltà. Dopodiché c'è la parola di Tchaikov che è straordinaria, ci sono questi personaggi. ieri sera una persona che era tra il pubblico mi diceva come ognuno di questi personaggi all'interno del testo al momento in cui diventa protagonista e questo è veramente un valore altissimo della scrittura di Tchaikov perché li ama, li ama tutti i suoi personaggi, così come probabilmente amava gli attori perché per loro scriveva. e dunque noi lo sentiamo questo amore e nello stesso tempo sentiamo la responsabilità che si aggiunge alla responsabilità che ci ha dato Leonardo. per me è veramente un onore lavorare in uno spettacolo dove c'è un regista che ci affida completamente la bellezza del testo, l'intensità di sentimenti, di storie, di questioni che vengono poste senza orpelli, senza aiuti esterni. a volte la scenografia, le musiche, le soluzioni registriche sono un grande aiuto per noi attori perché sappiamo che funzionano già di per sé, qua siamo veramente inutili e quindi ecco, io sono grata e onorata di aver ricevuto questo compito del quale naturalmente spero di essere all'altezza ma sono molto ben accompagnata dai miei colleghi. Grazie mille Francesca, hai nominato il buffo e magari volevo che come perché la seminaria non sia buffo assolutamente, ma è una cifra, sappiamo insomma è una posizione storica straniconosciuta, affermata dallo stesso Cecco di questa linea dell'umorismo dentro la sua scrittura che tu fai esplodere insomma insieme a, perché poi appunto dicevo è difficile staccare che c'è la scena quattro con Costi, Alnina e Arcadina e tu che sei una specie di trottola e quindi io l'ho finito da domani No no no, la trottola è l'umor immagine che c'è la red, ma sì mi ricollego un po' magari Leonardo può smentire quello che dico ma come anche è stato detto altre volte no? Chekhov parla di un certo punto di un sogno e dentro questo sogno può cadere di tutto è come andare un po' ogni volta a scoprire quale sono le regole, le dinamiche dei nostri sogni è il sogno di amare un nuovo amore che ci fa rivalizzare, avere successo, avere... sono tutti sogni che ci portiamo dentro e quindi dentro questo sogno può accadere che io vedo l'oggetto del mio desiderio presente anche se non c'è realmente nel testo la cosa molto interessante mi sembra che questa... cioè che Leonardo non è vero che non ha fatto una regia ma lui è molto presente in scena perché ha costruito, ha creato le condizioni per cui noi non possiamo sottrarci da creare delle... da rendere sempre molto più concrete queste immagini e quindi giocare con queste immagini in quel corpo appunto non c'è una scenografia, anche io mi chiedo ma perché non c'è la scenografia se abbiamo solo questi costumi, al di là è una domanda proprio allora che cosa competa agli attori se abbiamo solo il costume e c'è uno spazio completamente vuoto ecco che... parlava appunto Francesca di responsabilità, di rinunciare a un certo personalismo dell'attore per mettersi più al servizio di... delle parole, del testo, delle... ma anche al servizio proprio della propria... può sembrare contraddittoria quello che dico ma... rinunciare a... a... come diceva un maestro... rinunciare ad essere assenti in scena appunto perché c'è la scena, c'è io faccio il personaggio quindi sono protetto, sono invece chiamato costantemente a nutrire con la... con l'immaginazione quindi col corpo, col sentimento e quindi... non è stato voluto questa cifra non so neanche una cifra, è una cosa che poi a seconda degli spazi, perché... gli spazi più grandi, gli spazi più piccoli, il corpo cambia e quindi alle volte sono più trottola alle volte sono molto meno superlettile, sono più fermo, cioè... dipende, non è così... e questo è richiesto che accade, cioè siamo chiamati ad avere una sensibilità che solitamente non è richiesta non solo non è richiesta ma penso che... cioè Leonardo parla anche... si sente che è anche un attore e sa che ha... gli attori hanno dei potenziali che alle volte non... non vengono sollecitati e credo che invece la grandezza di questo... di questo processo che è iniziato è proprio da sollecitare delle parti che sono... che gli attori sono chiamati un po' a... a come dire... a usare una percentuale inferiore insomma... questo muscolo dell'immaginazione che cos'è? è qualcosa un po' di molto pratico, di molto concreto e quindi... mi fermo perché magari possono aggiungere i miei colleghi qualche cosa di più rispetto a questo processo un processo magari chiamerei a Juan... discussione orienta che è Sorin una figura... ecco per esempio il suo Sorin per me era perfettamente logico come a volte Leonardo mi spiazza e fa delle cose e dico no... non lo puoi fare invece poi... è ovvio che sia così perché mi ha colpito molto... intanto perché hai... acchiappato diciamo questa linea del materno che è fortissima in Sorin non è la madre di Costia e lui la madre e appunto si preoccupa perché non c'è le scarpe e le cose e poi... perché tu parli molto di... il tuo Sorin parla molto di esclusione, di marginalità di non riuscire a stare al centro e a prendere in mano la propria vita che insomma è qualcosa che il corpo delle donne conoscono molto e quindi ho detto è proprio... è proprio Sorin dunque Sorin... buonasera... Sorin è un personaggio maschile è il fratello di Arcadine... la vicenda si svolge nella sua tenuta e questo è un ipote di Costia e nell'affrontare questo meraviglioso personaggio... io ho avuto... e ho tuttora, ho molta paura perché è... poi non anche voglio parlare di me però... è un onore... è un privilegio... è stato... nonostante tutte le mie perplessità e anche le mie difficoltà che ci sono ancora... è un privilegio poter fare dalla parte di una donna un personaggio di quella portata e che racconta quello che racconta Sorin Sorin è un signore che ha vissuto una vita... dal suo punto di vista... poi bisogna dire se è vero però... di un fallimento... non si è sposato... non è riuscito a fare quello che voleva... anche lui voleva essere uno scrittore... un artista... anche lui è un animale artista... e non è riuscito a... non è riuscito a esprimerla... ed è alla fine della sua vita... non sappiamo che malattia abbia Sorin... però è un... è un signore che sta guardando le cose... da un punto di vista molto particolare... sa che le sta lasciando... e... ed è ma come si... abitare questo... questo corpo e questo personaggio... ehm... che ha molto di femminile... è veramente... è un privilegio... è difficile parlare di questo personaggio... perché per me è fatto di sensazioni... e di... mi lascio condurre dalle parole di Chekhov... ma Sorin... eh... ama tutti quelli che sono lì... certo... tutte le... ha superato... ehm... ehm... e ama quello che vede... insomma... questa... mi hai fatto... però una domanda più specifica... sulla... sulla cosa delle donne... vorrei... evitore... ehm... che comunque della... che rimangono appunto... escluse da una... ehm... possibilità di... 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 di prendere... si... di prendere la... la vita delle nuove mani... e... che è capitato... cioè... nella storia delle donne... questo è un fatto... storico... è un fatto di... tutt'ora... e quindi... mi ha colpito molto questo... riascoltare... Sorin... da questa prospettiva... di una... di un'incarnazione di un corpo femminile... che... racconta anche questa storia... antica... insomma... delle donne... oggi si spera... sempre meno... ecco... non ho pensato a questa cosa... però... appunto... è vero... è... è... è molto interessante... quello... quello che dici... sì... perché... Sorin racconta una... una... anche una frustrazione... una... una sua... però è un uomo... e quindi... la sua... eh... eventualmente sconfitta... ammesso che... poi si manca sconfitti... ma... è una... è una cosa che invece avviene per... per una persona che ha potuto... avrebbe potuto fare qualcosa... e non ci è riuscito... non lo sappiamo perché... non lo sappiamo... se per indolenza... per... eh... non... non... non si sa... lo cogliamo adesso... in questo... da questo... da questo... meraviglioso punto di vista... suo... e... ecco... e... un... non... è una... una... un... no... è come... accompagnarlo... è una stranissima... è veramente un'esperienza molto bella... molto bella... molto... ho fatto molta resistenza all'inizio... perché... mi immaginavo delle cose... e ancora adesso... non è che... mi sento assolutamente... eh... però... è... 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 a vedere come accompagnarlo più che essere, è una cosa particolare e grazie a Leonardo che ha fatto fare questo capitombolo, questa pirouetta, questo tuffo di testa da qualche parte, a esplorare delle, sì, tuffo di testa in mare per esplorare delle profondità. Spero, no, niente, spero che gli uomini si sentano anche un po' rappresentati, anche nella parte un po' più, sì, un po' più delicata che c'è in ognuno di noi, quindi mangiamoci perché, assolutamente, ma sì, forza. Bene, bene, niente, ecco questo. Allora, Pietta, gli ho aperto l'enorme capitolo delle relazioni, dell'amore, magari proseguiamo, poi andiamo dietro la seconda fila, ovviamente non seconda fila, c'è anche il giusto di posizione, adesso, a Polina e poi anche a Graziano, a Tino. Giordano, dunque, Giordano, giordano, spesso, perdono, ogni tanto, quando siete in troppo, mamma mia, qualche defaiazza, insomma, mi scuserai. Polina, ecco, la danza, Polina e Don ballano continuamente, questa cosa è bellissima, e il racconto di questo amore la passa appunto attraverso il corpo, la danza, come sempre nelle cose di Leonardo, ci sono tutti i livelli in movimento e anche questa sua adenza del lavoro sul progetto sonoro. Non voglio chiamarlo amplificazione perché veramente vuol dire ammazzare una drammaturgia del suono, veramente. Ecco, allora, magari vogliamo riprendere un pochino il tema del personaggio, ma anche vale poi per tutti il racconto con appunto questo strumento, che tipo di richieste vi fa questo microfono che vi accompagna e che per noi diventa un'esperienza molto intima, perché se andiamo attaccati a voi, anche noi a ballare con voi, quindi, se ne scusa la domanda, come sempre. No, no, è chiaro, è chiaro, grazie. E sul personaggio, come mi è già capitato di dire, Leonardo ha fatto un gran lavoro con me e gli sono grata, mi ha portato ad un altro punto di vista, quasi opposto da come l'avevo detto io sul copione. E quindi questa moglie dell'amministratore della penuta di Sorin è una contadina che non ha visto molto tutto il mondo e che è sempre stata lì, che non ama suo marito e che è l'amante invece del dottore, amico dell'Arcadina, che viene a fare, a passare la villeggiatura con loro. È da tanti anni l'amante del dottore. E lui le insegna ancora, forse dopo tanti anni, ogni estate, le insegna a ballare, perché non l'ha mai fatto, e balla solo con lui, col marito non ha mai ballato, quindi c'è, è vero, a volte dobbiamo ballare il waltzer, ma io devo non saper ballare il waltzer per rimpararlo ogni volta con lui. E lui attraverso il ballo mi comunica con me, mi tranquillizza, mi accompagna, mi cura. Quindi mi comunica il suo esserci comunque, anche se non può portarmi via con lui, che è il desiderio del mio personaggio. Ed è un lavoro sulla semplicità, un lavoro zen, di svuotamento, di, ogni sera, di andare a svuotarsi e andare a buttarsi senza tracadute, di abbassamento anche del volume, e qui vengo al lavoro col microfono. Io certe volte ho paura, perché io, seguendo questa linea del personaggio, quindi sono anche bassa, di volume, timida, mi fai paurita. E, lo dicevo poi Leonardo, ma io ho sempre paura, quando attacco, che attacco piano, che quelle signore in platea, che non sentono tanto, magari, o vogliono sentire un teatro forte, dicano voce! Ho sempre paura di sentire qualcuno, signora o signore, che mi dice così. Poi, lascio perdere, perché mi affido a questi meravigliosi tecnici, bisogna nominarli, Alessandro e tutti quanti, che sono dei compagni di lavoro eccezionali, dei bravissimi. E quindi vado sul pianino, e per me è una rivoluzione ogni sera, in realtà, con le mie prime sillabe. Sta diventando freddo, umido. Eh? Sto sbagliando la macchina. Sto sbagliando unido. Sono emozionata. Ho sbagliato la dottura. E questo, quindi affidarsi, affidarsi in tutti i sensi. Affidarsi col corpo, al mio compagno attore, al mio collega, perché è lui che guida la danza. Affidarsi alla voce bassa, al microfono, ai tecnici, alle parole del regista. Affidarsi e esuotarsi. Giordano. Buonasera. Buonasera. Ecco, nel Vedenko. Nel Vedenko, molto particolare, anche qui, il tuo corpo è sempre, perché ci racconti anche la fatica, questi viaggi, questi continui che fai a piedi, eccetera, e poi questo impedimento di una relazione con Masha, che insomma, prende una piega decisamente critica. Che cosa... Vogliamo provare magari a così... Perché è difficile, come vi dicevo, separare le relazioni. Poi lo facciamo anche con Cristian e con Giuliana. Se provate a... Anzi, passo il microfono a Ilaria, che mi lascia, a comunicarci degli aspetti della vostra relazione scenica, come... Da cosa comincereste, devo dire? Ah, e... Cominci tu? Come? Cominciamo. Ma... Possiamo raccontare... Ma la sto parlando io. Questa è la nostra relazione scenica. Io? Vabbè. Beh, io racconto dal mio punto di vista. No, dal mio. Dal mio punto di vista questa è una relazione tra due persone che comunque in qualche modo si vogliono comunque bene. E... Certo, lui la corteggia non si sa bene perché la corteggi se veramente è così tanto innamorato, se ha un interesse anche economico, perché comunque Masha è la figlia dell'amministratore della tenuta. Però non sono domande che Masha si pone. Nel senso che lei è totalmente in adorazione di Costia. Abbiamo affrontato un... c'è un aspetto molto importante di questa regia, ma che viene anche dal testo ma su cui Leonardo ha insistito. In questo spettacolo ci sono gli attori e gli spettatori. In qualche modo Colina come il marito, io, rappresentiamo in qualche modo il pubblico di coloro che vengono ad esibirsi, che vogliono ad esibirsi, non soltanto perché assistiamo proprio lo spettacolo di Nina, ma anche perché per quanto mi riguarda, io mi sono immaginata Masha che finita piccola, sta lì e guarda Costia, che vuole fare lo scrittore, magari è cresciuta anche insieme a Nina, fondamentalmente sono tre coetanei, c'è poca differenza di età, e lei non ha mai avuto il coraggio di esternare questa sua adorazione per le loro cose, per la sua attività, non ha mai neanche avuto il coraggio di dire quanto ne si è innamorata, credo che lei sia la spettatrice numero uno di Costia, quando arriva a Medvedenco per tornare alla relazione, insomma, poi all'inizio dello spettacolo, lei è in questo struggimento per questo amore che lei stessa non sa neanche confessare, e che appunto però è un amore ma è anche un'adorazione, una mitizzazione probabilmente, e poi vediamo un percorso all'interno dello spettacolo per cui questa ragazza che comunque è cresciuta in campagna con la madre che è quello che è, cioè una donna che per prima non ha vissuto la vita che voleva vivere, quando tu parlavi delle parole di Sorin, quando Sorin alla fine dice lei la vita l'ha vissuta, ma io, quelle parole risolvano molto in me, in me, nel mio personaggio, infatti io sono presente in quella scena e devo dire che a quel punto Masce è arrivata alla fine di un percorso per cui la vita non l'ha vissuta come voleva e in questo non averla vissuta come voleva c'è stato anche questo matrimonio che lei decide ad un certo punto di compiere, decide di accettare questo amore sperando che in qualche modo questa cosa la possa liberare, in realtà la ingabbia ancora di più. non abbiamo mai lavorato su una una relazione che sia di repulsione o di respingimento perché ci sembrava comunque meno interessante se dico delle queste lì ci sembrava meno interessante di sicuro non ne è innamorata però c'è una battuta in cui lei dice il suo amore mi commuove ma io non posso ricambiarlo perché appunto la mia gabbia io sono una gabbia e in questa gabbia c'è tutt'altro. Sì, all'inizio poi si accorge di essere amore infatti finisce con lei che prepara la cena la mente quello che deve fare quindi poi finisce bene per me deve no, sì io sono concordi con il punto di vista tuo perché in certo qual modo l'opposto è quello del maestro la cosa più interessante parlavamo anche con Massimiliano prima sono le distanze fisiche che servono a raggiungere l'oggetto dell'amore in Cepo ci sono in tutte le sue commedie c'è in Zio Pagna chi va a casa di chi vivano chi va a casa di chi per trovare chi e questi personaggi poi rimangono e nessuno ne vuole più andare infatti il maestro fa 12 chilometri al giorno ma poi è Mascia che non vuole più andarsene lui dice torniamo a casa e lui dice no perché l'oggetto è sempre altrove spesso capita in Cepo e in questo spettacolo tutti cercano questo altrove perché camminiamo tutti il maestro poi lo dice poi in realtà io faccio anche molto meno per grazia di Dio di Massimiliano che praticamente vola all'inizio dovevo camminare molto di più quando ha graziato Leonardo ci capiamo vabbè stai seguendo poi altro di ci cammini e quindi è andata però all'inizio iniziava con me tutto il tempo si è ripotizzato addirittura per tutto lo spettacolo poi per non torturare gli altri anche con il rumore delle scarpe abbiamo però questa distanza visita secondo me è importante è un tema dicendo che nel gabbiano è molto sviluppato e lui si va lì per cercare Marsha è molto giusto quello che dice l'aria non si sa se ne sia innamorato se si è convinto che sia necessario innamorarsene che possono essere la stessa cosa ma anche un'altra cosa è il taglio pratico cioè lui fa dei calcoli io guadagno un tot percorro un tot per venire da me quindi ti amo quindi a me piace molto questo automatismo di questo personaggio quello dei microfoni è importantissimo perché quella è una tortura quella della voce che infliggono agli attori nelle accademie dovete farvi sentire questa voce fallica che deve arrivare e poi una volta al buon cimonsiato ma non sentiamo niente è quella gente che protesta no, non altro però però un testimone di questo no, no, qua no ci sono i pochi e la cosa è questo aggiunga questa conflittualità col pubblico per cui non c'è più bisogno di dover pensare devo spingere devo fare esercizi 30 ore prima e ci aiuta moltissimo l'entrare in comunicazione noi e anche in comunicazione col pubblico e anche emotivamente a sostenere emotivamente sono personaggi che sono carichi di emotività noi in tutte le sere cerchiamo di portare in scena quella è un lavoro molto libero ma anche molto rigoroso bisogna in tutte le sere trovare una misura che è molto molto delicata e il progetto sonoro come giustamente lo chiami tu fa parte della nostra ricerca è uno strumento che ci aiuta che ci serve per poter trovare delle sfumature e rendere questo spettacolo come la definire se ero uno spettatore non so chi me lo diceva una piuma solo che il progetto sonoro visto che abbiamo citato la prima volta è il professor di maestria di Franco Visioni che ci tengo a dirlo le distanze giustamente Giordano ci ricordava le distanze mi ha affascinato tantissimo e da lì la difficoltà a staccare le figure le relazioni prossemiche c'è un ricano veramente tra Lina Costia Arcadina e Trigorin questo gioco come dentro una specie diciamo è un campo di forze straordinariamente efficace poi con appunto queste punte in cui vengono fuori il buffo lo strano il tragico insomma è davvero a molti livelli con presenti stupendo allora i due i due il gabbiano è l'assassino è l'assassino e poi aspetta Giulia la giorgia la giorgia la inizio io eh dopo tutto questo che c'è da dire chi arriva per ultimo sempre eh ah no sono più sforzionati no sono state dette tante cose tutte interessantissime per me Angela ha detto una parola che io estenderei a tutto il lavoro e non solo a quello che fanno Dorna e Polina che la cura eh c'è cofermo medico quindi chi meglio di lui può capire cos'è la cura il lavoro credo sia tutto qui ed è il lavoro la cura la cura per l'altro la cura per lo spazio la cura per il rapporto col pubblico la cura di se stessi in rapporto agli altri è un lavoro molto delicato e insomma la cura per me è la parola che un po' ha guidato la cura che Leonardo ha avuto per me gli attori è una parola molto importante per me che ho avuto e ho il privilegio di seguire passo passo il percorso di Leonardo perché l'abbiamo fatto parallelo e quindi io come dire ho avuto la fortuna di ricepire molto di più in questo lavoro lo scarto rispetto al percorso che abbiamo fatto insieme che è cominciato a scuola nel 2009 quindi quando dopo il primo giorno e l'ultimo giorno di selezione ci siamo detti ma facciamo qualcosa insieme poi dopo la scuola e siamo ancora qua quindi io sono felicissimo di questo quindi per me la cura è la cosa che ecco adesso è la parola che comanda questo questo lavoro secondo me quindi ci tenevo a portare poi magari meglio c'è un medico in scena non c'è un medico in sala c'è un medico in scena quindi abbiamo la fortuna che lui potrà detto questo sì anche io faccio molta fatica a parlare del personaggio molta fatica enorme fatica non perché come dici giustamente tu non esisto se non esiste il resto non è non sì ci sono momenti dove ci prendiamo la scena va bene va bene ok però Costia non esiste se non esiste Nina se non esiste Mascio se non esistono loro è difficile quindi che dire Costia è un figlio d'arte innanzitutto figlio di attrice figlio di autore il nuovo compagno della madre non è un autore ma è uno scrittore che è il suo stesso mestiere e quindi c'è un rapporto chiaramente più forte più diretto con l'arte un rapporto molto conflittuale nel senso anche con se stesso perché lui si definisce il portatore delle forme nuove ci vogliono forme nuove ci vogliono forme nuove ma finisce dicendo sono già scivolato nella convenzione in poco tempo è un viaggio è un viaggio anche in un'autoconsapevolezza artistica è molto interessante perché il gabbiano è una riflessione anche sulle forme teatrali sulle forme drammaturgiche sulle forme d'arte oltre che un crogiolo di sentimenti di amore di incontri è anche quello che chiaramente portano di più costi a Trigorio però questa cosa ogni tanto viene interrotta dall'amore ed è interessante perché chiaramente l'amore verso Nina che però lui porta a modo suo nella sua arte tant'è vero che il simbolo il gabbiano Nina c'è questa sovrapposizione tra l'amore il simbolismo il fatto è che la bellezza e anche la difficoltà delle parole soprattutto di questo testo di Chekhov è che non è o una cosa o l'altra è tutto insieme e quindi ne abbiamo parlato tanto con Leonardo è appena gli si dà una direzione perde perde qualcosa non so che cosa sia ma perde perché appena lo si incanala in qualcosa è come dare forma all'acqua è difficile la puoi mettere in un bicchiere ma è meglio se il bicchiere non c'è nel senso che e questa è la cosa più complessa perché vanno tenuti insieme tanti piani tutti insieme non uno o l'altro poi uno poi l'altro è sempre tutto come presente per quello che faccio anche molta fatica a dare una definizione al mio personaggio non gliela voglio neanche dare non l'ho ancora forse trovata non so se la troverò ma questo è il lavoro e la cura anche del personaggio questo è molto importante detto questo poi di questo ti si deve dimenticare si inizia perché sei sempre vestita di nero e da lì si va senza è quello non il lavoro di svuotamento di cui parlava Angela è quello ok ci sono tutte queste cose poi però si apre e si pare ok ora si va basta pensare si sta si cerca di stare a quello che c'è e questo direi di di costi non so sì sicuramente la cosa che dice Christian di non riuscire a definire i personaggi in modo specifico è vero e succede come succede spesso nei testi scritti bene diciamo così che ogni sera c'è qualcosa di nuovo che colpisce l'orecchio da attori prima ancora che per gli spettatori che chiaramente lo vedono per la prima volta e io per esempio qualche giorno fa mi sono interrogata su una cosa sulla quale non avevo mai riflettuto Nina è una ragazza che lo dice varie volte nel corso del testo che sogna di fare l'attrice il suo più grande sogno è di fare l'attrice di lasciare questa campagna e diventare un'attrice famosa eppure una delle prime battute che dice a costia prima di recitare il monologo è si sono agitata ma non perché c'è tua madre che è una grande attrice che sarebbe la cosa più logica io una giovane attrice davanti a una grandissima attrice famosa e tutto quanto dovrei avere paura di quello e invece dico sono agitata perché c'è Tregore che è un grande scrittore e questa è una cosa sulla quale non avevo mai ragionato all'inizio cioè non avevo ragionato nei primi tempi e continuo a non ragionarci veramente però mi fa pensare appunto ai tanti livelli che ci sono all'interno della storia dei personaggi e a un certo punto di Dior Tregorin per la felicità di essere scrittrice o artista io sarei disposta a tutto e quindi è chiaro che c'è tanto c'è tanto di umano c'è tanto di c'è tanto del sogno appunto come diceva Max prima ci sono tanti sogni all'interno di questi personaggi c'è il sogno di un amore c'è il sogno di una realizzazione professionale c'è il sogno di un riconoscimento c'è il sogno di far parte probabilmente di appunto si ritrovano tutti in questa tenuta per la voglia di stare insieme in un modo o nell'altro io cerco di scappare dalla casa dove mio padre con la sua nuova moglie non mi vogliono far uscire quindi l'altrove andare da un'altra parte non rimanere dove si è e questo crea la complessità di questi personaggi la complessità delle relazioni che porta poi a tutto quello che si vede perché non l'ha visto diciamo troppo ma abbastanza famosa la gente e quindi l'unica cosa che posso dire è che ogni sera è una ricerca di è nell'andare un po' più a fondo in tutti questi questi sentimenti umani queste queste ambizioni che non sono necessariamente nel senso negativo del termine ma nella realizzazione di un sogno nel vedere i propri sogni infranti e come si reagisce a un sogno infranto perché Costi reagirà in un modo Nina reagisce in un modo opposto vivono per un periodo chiaramente diciamo insieme crescono insieme poi a un certo punto nelle nostrate si dividono vivono in modi diversi un fallimento chi dal punto di vista più professionale lei dal punto di vista anche più umano e reagiscono a questi fallimenti in modo molto diverso così come nella natura umana reagire a un fallimento o a un successo in modo diverso e quindi il viaggio è proprio questo tentare di scoprire ogni giorno qualcosa in più e cercare di attraversarlo con più semplicità possibile ecco ma come la sensazione che dorme sia un po' dentro e fuori abbiamo un piede dentro e un piede fuori o è un'impressione un po' così da lettori perché lui si confronta insomma dire prende posizioni rispetto ad Arcadina è l'unico che dice c'è del buono in questo acco delle leoni eccetera tra l'altro come la dobbiamo vabbè questa è una cosa che poi ci dice è bello poi vabbè poi ci torniamo dopo è sempre un po' sul confine è quello che si incarica sempre di raccogliere un po' le sorti di queste di tutto questo valore di questa gente nervosa buonasera c'è una straordinaria puliferia di voci dentro Tchaikov c'è una straordinaria presenza con presenza c'è uno straordinario tessuto di di voci che nel senso che concorrono a creare quella magia e quel sogno è una parola che è già stata tra l'altro una delle mie frasi preferite e faccio un inciso la dice Trepliev Costia all'inizio dice la vita non va rappresentata com'è né come dovrebbe essere a teatro la vita non va rappresentata com'è né come dovrebbe essere ma come la vediamo nei sogni allora è una frase che mi affascina tantissimo e in questo insomma in questo si conferma un po' quello che dicevi tu il mio personaggio forse è l'unico che crede veramente nel talento di Costia oltre a una straordinaria polifonia di voci c'è anche una straordinaria polifonia di caratteri dentro ogni singolo personaggio e in questo Leo ci ha veramente sorpreso perché almeno parlo per me perché tutte le volte che prendevano una direzione lui diceva come con il suo modo che è fantastico che diceva sì sì lui dice sempre sì all'inizio e poi ti dice sì però anche così sì va bene però anche così anche così forse anche così Dorn è lo dice Leonardo è colui che osserva che guarda gli altri io credo che questa esperienza perché questo spettacolo è un'esperienza e non è consueto per noi cioè non è detto che noi attori facciamo veramente un'esperienza quando lavoriamo dentro questo spettacolo c'è molto io sento molto e ho sento la responsabilità in Dorn la dimensione dell'ascolto l'ascolto profondo l'ascolto quello vero ora spesso questi personaggi noi personaggi un po' tutti sembriamo non ascoltarci veramente i quei personaggi cioè sembrano ognuno andare però poi come per magia accade che si capiscono alla fine riescono a capirsi e questo è dovuto alla dimensione dell'amore che che è già stata citata e che Chekhov incarna in una maniera straordinaria è un incanto insomma cioè sapere a ogni momento come ha detto Francesca che questi personaggi sono amati da Chekhov sono non so se ho risposto alla tua domanda ma sì Tino ecco prima ti dicevo che il personaggio tu mi hai colpito tantissimo è così divergente rispetto a quello che ci mi ha perché la storia scenica del testo ci ha consegnato un personaggio sempre molto muscolare invece non è affatto così e anche forse una relazione d'Orna grazie a volte c'è qualche debbaianza sui lunghi russi c'è perché anche lui è una un po' parte sì buonasera sì sembra essere un spettatore fra gli spettatori fra i spettatori tra i personali spettatori in effetti sempre molto rievocativo rispetto a un passato appunto sembra proprio appartenere a qualcosa che è stata come se tutto il resto della vicenda e degli scambi gli appartenesse in realtà c'è questo senso pratico forte che lo avviluppa è impegnato a far rispettare che le cose valdano in un certo modo e tutto questo provoca anche un po' di distanza e di freddezza magari da parte degli altri intanto scivola via anche la vita personale sua la moglie appunto che se ne va con un medico e potrebbe sembrare che anche questa cosa non gli appartenga più di tanto in realtà c'è un dolore c'è anche una sensibilità che scatta che lo tiene comunque avvicinato e avviato ai sentimenti degli altri cioè questo gioco di attrazioni respingimenti continuo che ha un flusso che attraversa tutti i personaggi non non viene escluso neanche Shabra anche se apparentemente parrebbe appunto nella sua autosità un po' così distanziato ma in realtà la vita lo tocca e lo ferisce come gli altri insomma c'è un contatto ma non riesce a fare tanto ma è un altro così poi sentiamo che so che ci sono delle domande sì tu hai detto dovevi dire un'altra cosa volevo dire dopo di una cosa non mi permetto di dire un errore che non si dovrebbe mai fare spesso è quello di ridere invece Chekhov non deride mai nessuno ci mette dei dati in scena e ci accompagna in questo non dice mai poi prendo la decisione noi lo scopriamo con Zio Varga tre sorelle e Gerdino De Ciliegi che sono i testi successivi che Chekhov scrive e la decisione è quella che a differenza di Platonov la dimensione simbolista lascia il passo alla storia anche se in tre sorelle i singoli sono molto presenti però io credo che l'andata via di Costia a fine di a piano sia una scelta artistica e questo è emozionante Benissimo allora abbiamo il tempo per davvero un paio di domande chi voleva Ernesto buonasera magari si sente bene forse il mio è un problema di format però io l'avevo pensato invece come una questione di coerenza di contenuti premento che io ho visto lo spettacolo di sera lo spettacolo mi è piaciuto moltissimo ho trovato tutti bravissimi mi è trovato straordinario lo spettacolo grazie una cosa appunto mi è facciato per pressio nel senso che probabilmente non l'ho capita ed è la chiara volontà che c'è alla fine di isolare il dialogo finale fra Cospentine e Nina durante tutto lo spettacolo è bellissimo come si è già detto tutti i personaggi sono contemporaneamente protagonisti e pubblico è proprio palesato in maniera chiarissima c'è la panca dove si siedono e si alzano e vengono al procedio diciamo quando è il loro turno quindi questa è una scelta evidentissima alla fine questa scelta è interrotta c'è una frattura evidentissima la frattura è anche poi diciamo a rinforzare questa frattura è il fatto che in realtà appunto la commedia il dramma come chiamarlo per me è una cosa Giacomo scrive commedia scrive commedia è Giacomo pregato e non finisce con la morte di Costanti Costanti ma finisce con questa con questo dialogo di due personaggi che dicono di stendere a trovare il modo di dirlo a Irina e e però questo non viene detto in scena è registrato e si ascolta quindi c'è una chiara scelta di una frattura rispetto a tutta l'impostazione dello spettacolo anche una chiara scelta nel senso che lo spettacolo ha un tono come dire mite diciamo di sofferenza mite e non disdegna diciamo di sfociare a volte dell'umorismo una cosa alla quale come sappiamo tutti c'è lo stelte a moltissimo che pensava che i suoi fossero anche le sue problemi fossero anche per cui si crea anche una frattura tra il finale tragico e invece questo tono che è il tono complessivo della della scena quindi mi pare che ci sia un'intenzione molto precisa questa è una cosa che ho capito fino a un certo punto e all'interno di questo finale ci sono altre cose che mi sono che mi hanno lasciato che evidentemente non ho capito per esempio Costantin quando fa la sua ultima dichiarazione d'amore a Nina in realtà sta leggendo sta leggendo qualche cosa non c'è il perché nipo pathos in queste parole è una lettura neutrale e neutra per cui e poi alla fine non c'è il corpo di testola il corpo di testola c'era stato quando c'era stato il tentativo di suicidio invece alla fine quando si ammazza veramente il corpo di testola non c'è il corpo di testola non c'è cosa che rimane in piedi e si avvicina allo zio che nel fratello si è realizzato che sembra desonava aver creato un ultimo respiro e sembrano ritrovarsi in qualche modo ecco è chiaro insomma che questo finale significa qualche cosa però devo dire che io ci ho pensato ma insomma forse ci devo pensare poi grazie sì grazie bellissimo ascoltare molto sì sì indubbiamente c'è una scelta da parte di Cekov prima di tutto che isola Nima e Costia in una versione tra l'altro insieme a Sori in una versione diciamo pre-censura poi questa cosa viene cambiata nella nuova stesura e quindi io ho deciso poi di tenere Sori addormentato che anche questo ce l'ha già dato un piccolo antipasto e il suo dormire questa volta temo sia un dormire più profondo per me sì non sono registrati loro le recitano da dietro però l'importante è che vanno a cambiarsi invece sono lì a continuare a recitare sì sicuramente rispetto a quello che dice lei è meno nitido è meno nitido per me deve esserlo anche agisticamente non le nego che mi sto ancora domandando l'ultimo colpo di pistola l'ho tolto ieri dopo due settimane di repliche vediamo cosa succede questa settimana però per me è molto importante non fermare quella scena ancora trovare delle cose il suo feedback per me è molto importante mi interessa e questo è un generale però sicuramente sull'ultima scena si sottolinea di più forse anche per i miei eccessi di presenza mi interessa che la storia non sia tutto perché i film sui Gabbiamo per me non funzionano e quindi non basta la trama nel Gabbiano nel Gabbiano è presente qualcosa di meno nitido rispetto ai testi successivi che passa da un interrogarsi sulla forma e questo ultimo atto non c'è solo questo che ha detto lei ci sono anche altre cose ancora più contorte ad esempio perché Nina torna non invecchiata di una virgola dopo due anni era diciamo che invecchiata con lo stesso costume dello spettacolo che ha recitato due anni prima ad esempio no? metto altre carne fuoco contro di me oppure perché loro invecchiano in quella danza e perché Ciamrev è un balla con Maschen o con Polia ci sono tante domande che ho lasciato lì che di cui che mi non continuano a emozionare sicuramente è molto importante che quella non sia una scena chiusa all'interno di un finale di uno spettacolo perché altrimenti rientra la nitidezza e soltanto la nitidezza della trama che per me per il gabiano non basta a differenza ad esempio di quelli che ha scritto dopo quelli che ha scritto dopo a mio avviso invece tre solele ha come dicevo prima nei passaggi simbolici importanti che si rispecchiano nella trama ma il gabiano a differenza di Giovania e il giardino dei ciliegi non deve essere concluso l'ultima battuta però non è dobbiamo dire l'arcadina ma dobbiamo dire l'arcadina che Costia si è sparato e non si è ucciso ad esempio che è un'altra cosa interessante che lui si è sparato lui si era già sparato anche e non era morto quindi quindi ci sono tante cose che Cecco introduce in questo finale che non chiude all'interno di una trama e di questo gli sarò eternamente grato ed è il motivo per cui secondo me continua ad essere forse il testo più difficile da fare per me è bellissimo ogni battuta non è veramente Everest insomma purtroppo dobbiamo chiudere c'è ancora una domanda buonasera congratulazioni per tutta la preparazione le prove i spettacoli delle repliche vorrei chiedere una cosa che mi incuriosisce molto per quanto riguarda il lavoro sul personaggio di Nina mi incuriosisce questo lavoro di preparazione del personaggio e quindi questo conflitto interiore che riguarda la frustrazione di non essere di sentirsi apprezzata amata la Trigorin e quindi questo senso come di di prigione no come interiore e che poi deve coesistere con questa voglia di libertà come attrice e quindi per vivere questo mestiere che ama dell'attrice quindi mi incuriosisce questo questo lavoro sul personaggio è una domanda molto complessa però rispetto a non sentirsi amata da Trigorin io non la vivo questa cosa nel senso che Trigorin io e Trigorin scappiamo insieme poi ci sarà un altro pillogo però io e Trigorin scappiamo insieme e nel rapporto che io ho con lui è un rapporto anche di appunto quando parlavamo della proscenica dell'avvicinarsi e del respingersi è una cosa che c'è molto quindi è anche come fosse un gioco tra di noi non aperto all'interno insomma dei primi tre atti questa repulsione che lui ha nei miei confronti questa cosa chiaramente però si inserisce all'interno di una diciamo così vita già complessa nel senso lei era innamorata di Costia forse lo è ancora forse no lei vorrebbe far l'attrice vorrebbe andar via da casa sua quindi si inserisce in un contesto un po' più complesso il quarto atto è un'altra cosa perché nel quarto atto lei torna sconfitta in qualche modo o comunque se non sconfitta che ha attraversato dei mi viene a dire traumi forse brutta come parola però si appunto scappa con lui a questo bambino il bambino muore lui la lascia quindi chiaramente però almeno sul lavoro che ho fatto io non è tanto nella direzione di sentirsi apprezzati o non sentirsi apprezzati da lui quanto da tutti quanti anche nel monologo di Costia appunto quello che citavamo prima lei chiaramente non viene apprezzata dagli altri che la ascoltano e la guardano e questa cosa diventa motivo di risentimento verso il Costia che la lascia lì e poi dice vabbè pazienza è andata male io me ne vado e quindi sicuramente c'è un discorso di volere essere apprezzata chiaramente volendo far l'attrice è ovvio che il desiderio è quello però è sparsa su tutti non credo non la vivo solo su Tricorin ecco di là c'è un'altra poi questione che si apre ma appunto più avanti però non so se ho risposto più o meno per chi il sistema della libertà come è felice ah il tema della libertà come è felice ecco sì quello che poi vale un po' per tutti è un discorso complesso molto bello è un quello che ci chiede Leonardo è di lasciare che le cose di non tenere a bada nulla di quello che ci succede dentro che ci succede in scena sempre in relazione agli altri e mai da soli su noi stessi e la libertà è una ricerca costante non è un qualcosa che si raggiunge veramente si va sempre verso la ricerca di questa libertà verso la la ricerca di una sincerità nella finzione chiaramente e quindi anche questo è un processo che stiamo attraversando di sera in sera di momento in momento di scena in scena e in realtà è la ricerca di questa libertà che può portare a sentirsi di volta in volta infitati apprezzati non apprezzati amati o non amati solo attraverso questo tentativo di essere totalmente presenti al momento totalmente liberi in quello che succede si possono attraversare questi altri sentimenti come un riscatto come un riscatto anche posso regarmi velocissimo perché magari spiega anche una questione interessante detto dal signore a furia di trattare il teatro con degli aforismi da cioccolatino è passato il termine che Nina dice io sono un gabbiano io sono un gabbiano questo non è vero Nina dice io sono un gabbiano no io sono un autrice e questa è la cosa il nodo di Nina per quanto riguarda perché poi nel senso che anche rispetto al riscatto alla libertà che ci sta in qualche modo chiedendo di dire in questo no c'è tantissimo avete cercato il meno simbolo prima tu e poi tu e forse anche tu e quando prima dicevo chissà se siamo veramente innamorati l'uno dell'altro se abbiamo bisogno l'uno dell'altro per fare questi chilometri nella vita allora quel no è importantissimo cioè lui nell'ultimo momento scrive io sono un gabbiano io sono il simbolo io sono il titolo di questo sceltacolo no io sono un'attrice e questa cosa è per me è una bella doppia ma ti so che dobbiamo chiudere ho citato Franco Visioli ci tengo a citare Nicolas Bouvet che ha curato le scene le luci un scenografo ormai premiato in tutti i cattoni e che decide di non mettere la scenografia cioè il percorso fa parte proprio di questo il percorso delle persone che ci si vuole bene nel lavoro e Nicolas è molto prezioso in questo e Aurora è ancora qui a seguire le repliche potrebbe già essere armare da settimane aveva ragamato il corretto i costumi e non è mi grasso che è stata un assistente a regia oltre tutto lo staff ci tengo a citarli oltre a Franco grazie